musica 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 allora quando finisce il moraggio di borsa a sinistra puoi accelerare la minima di sua direzione ok ... ... ... ... ... Seconda? Sì Aspetta con gas prima per lo sterzo Passo più sull'istra Passo più sull'istra Passo più l'altra Un'altra Dentro destra Prima e giù a destra Adesso frena Correna e scala Seconda? Sì Correna e scala Correna e scala Versa Correna e scala Un'altra Lecce Correna e scala Correna Correna e scala Correna e scala Correna e scala Correna Correna e scala Buona Bella Merza Lascia la scuola Lascia la scuola Autici ricatti, sento me va? No, è sulla piattaforma È sulla piattaforma E' sulla piattaforma Non lo dobbiamo raffrontare Un minico No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.